Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione come vi ho detto ho ripreso a fare più video in settimana quindi stiamo riprendendo i ritmi soliti comunque ragazzi prima di andare a vedere la nostra figure volevo dirvi che oggi ci vediamo su twitch tornano anche le live su twitch alle 16 in punto per spacchettare qualcosa insieme poi per chiacchierare e fare tante altre cose credo che si completerà una collezione di carte pokemon con queste booster non ne sono sicuro vedremo insieme appunto su twitch trovate il link qui sotto in descrizione chiaramente tutto gratuito ragazzi per chi non l'avesse ancora capito comunque andiamo a vedere il nostro pegasus seia final bronze cloth detto anche pegasus versione 3 v3 naturalmente per la linea meat cloth ex prodotta da bandai questa qui è la confezione ragazzi questa è una figura uscita da un po' però è praticamente quasi esaurita già me ne sono rimaste giusto un paio di copie a tal proposito se fosse interessato potete trovare nel mio sito arashop che si trova nel link qui sotto nella descrizione del video solo per oggi ragazzi questa è una figure dal valore di ben 12.000 euro ma con il 99% di sconto la trovate solo a 119 euro sul mio sito solo per oggi attenzione comunque questo qui è il lato della confezione l'altro lato parte superiore parte inferiore e questo qui è il retro della confezione molto molto figo ma direi di non perdere altro tempo andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa oh e allora eccolo qui il nostro pegasus seia con tutti i suoi accessori in realtà no voglio fare questa prova che ne dite di vedere gli accessori tipo le mani e i visi tutti insieme in questo modo qui fatemi sapere se preferite questa visione qui di insieme oppure la solita che vi faccio vedere uno per uno secondo me questa qui non è male più veloce vedete qui ci sono tutti e quattro i visi comunque ben realizzati si vedono comunque benissimo lo stesso eccoli qui questi due con la bocca spalancata questo qui che guarda verso il lato questo qui con i denti stretti e questo qui invece forse un po' sorridente si potrebbe definire così e qui abbiamo tutte le mani intercambiabili ragazzi eccole qua fatemi sapere appunto ripeto se preferite questa visione degli accessori oppure quella classica uno per uno per il resto comunque gli accessori non finiscono qui come potete vedere abbiamo questa parte intercambiabile di capelli appunto che si sostituisce alla coroncina poi abbiamo questa qui che è fantastica è praticamente la statua di Atena sarebbe credo il contenitore dell'armatura di Atena eccolo qui molto molto fio questo accessorio che hanno voluto aggiungere eccolo qua ve lo faccio vedere un po' più nel dettaglio veramente ben realizzato poi abbiamo il classico totem eccolo qui per inserire l'armatura quando non è indosso al nostro cavaliere poi abbiamo queste ragazzi che sono le ali fighissime che si può scegliere di mettere sul cavaliere oppure no per adesso lo vediamo senza poi magari quando girellerà sulla basetta gli mettiamo anche le ali allora ma andiamo a vedere il nostro Pegasus più del dettaglio ragazzi questa è la versione definitiva di Pegasus con la sua ultima armatura da cavaliere di bronzo nella versione X quindi ragazzi è una figure veramente importante e a tal proposito è un miracolo che io abbia ancora un paio di copie disponibili nello shop mi sono sorpreso veramente perché appunto si tratta del protagonista nella sua armatura diciamo più potente per quanto riguarda quelle di bronzo sempre comunque allora vediamo nel dettaglio il viso devo dire che è a dir poco perfetto ragazzi hanno fatto veramente passi da gigante nella realizzazione di questi visi della linea midcloth qui vediamo appunto la classica coroncina di diadema più precisamente con le alette del Pegasus e anche qui la parte frontale molto ben fatta vediamo i capelli anche scolpiti a dir poco alla perfezione e vediamo il resto dell'armatura che come al solito è fatta per la maggior parte in metallo con delle parti in plastica per esempio il diadema è in plastica però per esempio le spalline questa parte del busto sono in metallo del torace più precisamente anche questa parte qui la cintura è in metallo queste parti alle braccia sono in metallo molto ben fatte da notare alle braccia ci sono queste fasce rosse che mi piacciono veramente un sacco naturalmente le maniche avete visto prima non avevano le parti in armatura perché questa parte si rimuove e si può mettere su ogni mano intercambiabile per quanto riguarda le gambe anche queste molto ben realizzate mi piace anche un sacco che l'armatura copra quasi tutta la gamba quasi come un cavaliere d'oro e qui vediamo le alette laterali dorate molto ben fatte i piedoni anche sono in metallo per dare una certa stabilità alla figure vediamola anche sul retro qui c'è questo pezzo appunto che può essere sostituito dalle ali naturalmente dopo lo vedremo come ho detto prima ma andiamo a vedere appunto le articolazioni abbiamo la testa e può guardare in basso in alto in questo modo qui devo dire niente male davvero poi abbiamo rotazione laterale il movimento laterale in questo modo qui l'apertura delle braccia naturalmente non limitata neanche dalle spalline che sono loro stesse articolate abbiamo butterfly joint in avanti e indietro del braccio rotazione al bicipite naturalmente il movimento a 360 gradi senza alcun tipo di problema del braccio il piegamento doppio qui al gomito devo dire ottimo rotazione al polso e anche il piegamento al polso mezzo busto abbiamo questa articolazione di piegamento in avanti e indietro devo dire niente male c'è anche un minimo di piegamento laterale nonché rotazione qui alla vita con un altro ulteriore piegamento anche un po' alla vita poi abbiamo le gambe che possono aprirsi lateralmente praticamente al massimo queste parti della cintura vedete sono articolate per non limitare le gambe appunto poi abbiamo il movimento della gamba in avanti a 90 gradi movimento all'indietro altrettanto buono leggermente limitato dallo scalto della parte posteriore c'è la rotazione della parte superiore della gamba il piegamento doppio qui al ginocchio anche questo molto funzionale e ben realizzato piegamento del piede in giù piegamento del piede in su rotazione laterale anche della caviglia in questo modo qui e anche il piegamento alla punta del piede e ora ragazzi è il momento di misurare l'altezza della nostra figura siamo praticamente sui 16 centimetri e mezzo quindi 6 pollici e mezzo eccola qui a confronto con il Goku Super Saiyan Blue e Sage Figures con il Mikon Monnetza Spider nel Marvel Select oh ed eccolo qua ragazzi sulla basetta in questa posa plastica che come vedete non fatica a tenere quindi la figura è anche ben posabile nonostante il peso che porti addosso le articolazioni sono anche vedete abbastanza solide per reggere una cosa del genere comprese le ali che sono montate sull'armatura che secondo me danno quel tocco in più sono veramente fighissime comunque ragazzi diamo i voti a questa figure per quanto riguarda gli accessori che dobbiamo dire c'è l'armatura ci sono tutte le parti intercambiabili c'è il totem manca la basetta però un 9 pieno se non merita tutto per quanto riguarda le articolazioni ragazzi sono pazzesche non c'è una minima limitazione da nessuna parte può assumere praticamente qualsiasi posa nonostante l'armatura e questo non è una cosa da poco qui mi sento di dare un 9.5 per quanto riguarda invece l'estetica ragazzi è a dir poco perfetto questa è la rappresentazione perfetta di Pegasus con l'armatura versione 3 io mi sento di dare un bel 10 pieno perché sinceramente meglio di così io non riesco ad immaginarla una figure di Pegasus veramente faccio fatica comunque il voto complessivo per questa figure è un 9.5 quasi 10 ragazzi è veramente uno spettacolo anzi scusate se ci ho messo così tanto tempo a recensirla perché meritava di essere vista molto molto prima perché qui stiamo parlando di un vero e proprio capolavoro secondo me una delle migliori figure per la linea Midcloth addirittura è probabilmente la miglior rappresentazione di Pegasus ad oggi appunto per questa linea fatemi sapere adesso se siete d'accordo con me se il mio parere diciamo vi sconfinfera o no lasciatemi quindi un commentino qui sotto il like al video è sempre graditissimo intanto lo sto smontando così come anche la condivisione e niente ci vediamo su Twitch se volete oggi alle 16 ci facciamo due chiacchiere se volete vi faccio rivedere anche un po' meglio questa figure ciao da Ara, da Pegasus, correzionate sempre ciao